Ciao a tutti, io sono Giorgia e sono una ex studentessa dell'Iceo Carlo Troia. Nel 2020 mi sono diplomata dall'indirizzo linguistico. Ora sono al secondo anno dell'Università ad Amsterdam e sto studiando la Facoltà di Media and Language. Lavoro nel settore delle industrie creative per quanto riguarda la creazione di contenuti digitali e nell'editoria. L'Iceo Carlo Troia è stata una parte fondamentale del mio percorso, non solo per quanto riguarda il percorso accademico, ma soprattutto per la mia crescita personale. L'Iceo Carlo Troia offre un'ottima preparazione linguistica, che è stato poi l'aspetto che mi ha permesso di intraprendere questa avventura di studiare all'estero senza paura, anzi allargando quelli che sono i miei orizzonti culturali e soprattutto le mie prospettive lavorative. Inoltre, un punto fondamentale del Liceo Carlo Troia è il fatto che offra una formazione completa per quanto riguarda tutte le materie, in modo tale che gli studenti sviluppino delle abilità e interessi interdisciplinari, così la loro scelta per una carriera futura non è affatto limitata. Quindi, se non vedete l'ora di viaggiare, scoprire il mondo e avete uno spirito intraprendente, vi assicuro che siete nel posto giusto. Il Liceo Carlo Troia ha gli strumenti per voi e soprattutto vi offrirà una famiglia speciale per i prossimi cinque anni. Ciao!